In casa Gelbison il mercato tiene sempre banco e dopo l'arrivo dell'attaccante Claudio Sparacello, che ha già avuto modo di debuttare con la casacca rosso-blu nel match vinto con il Biancavilla, l'attenzione si sposta sulla voce uscite. E' considerato che il parco attaccanti era diventato ampio, la società del presidente Maurizio Pugliesi, di concerto con il DS Nicolò Pascuccio, ha deciso di sfoltire. Così in uscita è finito Simone Figliolia, 28 anni, che con la Gelbison in quest'inizio di stagione ha giocato dieci volte, realizzando due reti. L'attaccante, che era richiesto da molti club di quarta serie, ha trovato l'intesa con i Pugliesi della Fidelissandria, che fa parte del Ginone H e da domani si allenerà con i nuovi compagni. E' mercoledì in sedie D si recuperano cinque gare Taranto-Città-Fasano, FC Messina-Marina di Ragusa, Calcio-Biancavilla-Roccella, Cittanovese-Castrovillari e Rotonda-Gelbison.